Gentili telespettatori, buona giornata. Giannini, i giornali di sinistra, tifano perché all'Italia vada male come nel 2011. Che è successo nel 2011? Abbiamo perso i mondiali, gli europei, ci è andata male in che senso? Nel senso che Berlusconi dovette dare le dimissioni perché lo spread fuori controllo stava portando l'Italia al fallimento. Lo spread altissimo vuol dire che paghi interessi altissimi sul debito e se non hai i soldi per pagare il tuo debito con tutti gli interessi, devi dichiarare fallimento. Se non paghi la prima rata, quello che è, tecnicamente devi dichiarare poi fallimento e sono chevoli ameri. americi, ameri, sono chevoli ameri. Ecco, come diceva Lino Benfi, sono chevoli ameri, molto ameri perché col fallimento non paghi più i titoli di Stato agli italiani, non paghi più le pensioni, non paghi più gli stipendi statali, non paghi più la luce. Insomma, il fallimento, chiedete all'Argentina quando è successo, i paesi falliscono perché c'è qualcuno che si dice che i paesi non falliscono. Ma studiate prima di aprire la bocca. Certo che falliscono i paesi, certo che falliscono. Poi magari l'Europa tenterebbe di non far fallire l'Italia facendo come la Grecia, distruggendo totalmente il paese. Però abbiamo dei giornali con i loro direttori che tifano e sperano che si torni come nel 2011, con il rischio, Berlusconi è corso a dare le dimissioni. Secondo voi Berlusconi che dà le dimissioni di corsa lo ha fatto perché doveva correre in bagno? No, lo ha fatto perché la situazione era estremamente grave e se non dava le dimissioni e non si tranquillizzavano i mercati, a quest'ora avremmo raccontato un'altra storia. Oggi saremmo usciti dal fallimento in maniera, oggi altro che i salari poveri, sarebbe un paese di poveri, totale. Bene, quindi voi direte, ma scusate, ma davvero la sinistra tifa e gufa perché al paese vada male per tornare loro al potere? E' certo, è certo, certo che gufano, certo che ci sperano. Dice, ma questo non è eticamente corretto, moralmente corretto? E lo so che non è corretto, ma è così, è così. Dice, ma l'Italia dovrebbe essere tutti uniti per il bene dell'Italia? No, non è così, non è assolutamente così. Dice, ma destra e sinistra dovrebbero essere uniti in certe cose per il bene della patria? No, no, non è così. Gufano e sperano che agli altri vada male, che il paese crolli per loro tornare al potere e spartirsi le poltrone e continuare a prendere quei 13 mila euro al mese. Voi credete realmente che un paese fallito, che non paga più le pensioni, gli statali, come vi raccontavo prima, non continuerebbe a pagare i 13 mila euro al mese ai politici? Con tutto un paese fallito i nostri politici continuerebbero ad essere pagati, sarebbero gli unici nella pubblica amministrazione ad essere pagati in caso di fallimento. Quindi a loro non cambierebbe poi più di tanto, anzi sarebbero ancora più signori, perché avrebbero un potere d'acquisto che gli italiani se lo sognerebbero col binocolo in un paese fallito. Ma Giannini non vuole fare il gufo, lui dice io non voglio mica fare il gufo, però lo scenario del 2011, giusto perché non vuole evocare un governo tecnico, cosa stai dicendo Giannini? Eh sì, perché fioccano report allarmanti dalle banche d'affari, editoriali preoccupanti sul Financial Times, Der Spiegel, l'Economist, tutti citano il disastro del novembre 2011 quando un governo Berlusconi alle comiche finali con uno spread verso quota 600 cadde in Parlamento sul rendiconto generale dello Stato. Quindi dicono è già successo, tutti nel mondo dicono magari torna come il 2011 e lui dice io non è che voglio gufare, però all'estero dicono queste robe qua, eh? Eh? Eh caspiterina? È un bel personaggio, eh? Complimenti, complimenti, eh? Complimenti. La sinistra parla male dell'Italia all'estero, la sinistra gufa e spera che l'Italia vada male e c'è un italiano su cinque che vota per il PD. La domanda è, ma voi votate per un partito che gufa contro l'Italia, per un'area politica che gufa contro l'Italia? Voi leggete giornali che sperano di ritornare al 2011? Non mi vorrete dire che metà degli italiani hanno tutto questo rancore da sperare che l'Italia fallisca piuttosto che per tirar giù meloni? Caspita, siete proprio molto democratici, cioè il vostro intento è quello proprio di lasciamo perdere la democrazia, speriamo che l'Italia fallisca e così vanno a casa. La frustrazione di non poter vincere le elezioni vi porta a voler sovvertire il voto con fallimenti, con chissà quale cose? È un po' brutto gufare contro il proprio paese, è brutto da parte sia dei politici sia degli elettori, davvero una metà degli italiani gufa contro il proprio paese, spera che vada male al proprio paese, che ha tutto questo odio rancoroso da sperare in un fallimento per poter tornare al potere, dire tie tie tie, ma davvero? Ma davvero? Mamma mia come state? Ma siete tanti a stare male così, ma tantissimi, ma tantissimi. Comunque, poi Giannini dice che si ripete adesso improponibile, ma non impossibile, improponibile ma non impossibile, potrebbe anche capitare, dice Giannini, io mi cagufo, però può capitare, può capitare. Mi risulta, dice Giannini, che Meloni abbia già segnalato sulla sua preziosa agenda rossa alcune date decisive, sono quelle già fissate dalle agenzie di rating che in autunno dovranno rendere noti i rispettivi voti e qualificazioni sull'Italia. Eh cavolo, Giannini, stai sperando in queste agenzie, caspiterine, vai in chiesa e fai qualche preghiera, fai qualche messa cantata, non so, vi ricorda che Infantozzi diceva ma una messa semplice contro il direttore generale che stava male, no? La messa semplice 10 euro, cantata 20.000, no? Quindi la messa contro il governo cantata può costare anche 20 euro. Va bene, pagate pure le messe contro il governo, cantate, no? Speriamo che cada. Ecco, pagate pure le messe contro il governo, eh, dai che magari ce la fate, eh? Gufi del Malaugurio, gufacci del Malaugurio, eh? Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe, pettegoli pettegoli arrivederci a tutti e grazie